Io ho una nuova registratura a processi profondi e condivisi di riorganizzazione delle funzioni di servizio che vi rendono più efficaci, più efficienti e più appropriati. Io mi auguro, e questo è quello che faccio anche il convegno, è che nella discussione di oggi si possa davvero aprire una nuova stagione, sia nella battaglia delle autonomie locali per ottenere provvedimenti più adeguati e poverenti, con i principi sanciti della Costituzione rispetto al ruolo delle autonomie locali, ma anche una nuova stagione di innovazione, di modernizzazione e di autoriforma che credo sia necessaria per adempiere a me le funzioni degli ambienti locali. Bene, ora la parola a Antonio Coglieri e il Vittorio Bianci e il Romagna. Buongiorno a tutti, mi piace in Germania, ringrazio per l'invito e guardo un favore, un grande favore al vostro lavoro e a iniziative come queste che ci consentono di fare un pochino il punto dell'attività che come amministrazione locali in questa regione stanno producendo.